I Balla Onda vogliono fare un grande saluto alla carissima Daniela della trasmissione Liscio come l'olio e chiaramente a tutti i suoi spettatori che la seguono numerosissimi da casa. Volevo invitare tutti gli amici il giorno 25 maggio al Modena Est, la grande serata delle Fisarmoniche e Daniela sarà la presentatrice di quella bellissima serata. Vi aspettiamo numerosi amici. Ciao a tutti dai Balla Onda!